Eccoci, Giulia. Come stai, cara? Veramente un po' tesa. Sono certo che il dottor Miguel ti abbia istruita nei migliori dei modi, Giulia. Lo sai che tutte le donne poliziotto vorrebbero essere al tuo posto oggi? Sì, certo, ma un conto è fare le simulazioni con il dottor Miguel, un conto è trovarsi faccia a faccia con un serial killer, ispettore. Giulia, ascoltami. È normale che tu sia tesa. Non saremo tutti al tuo posto. Però adesso ti devi concentrare al 100% sulla tua missione, Giulia. Al 100%. Al 100%, ispettore. Giulia, Muzzi è un mostro. Se io fossi lì, al tuo posto, lo strozzerei con le mie mani senza pietà. Ci abbiamo messo 20 anni. 20 lunghi anni a prenderlo. Nel frattempo, quel bastardo ha ucciso 22 persone. Prevalentemente gente dello spettacolo influencer. Ha ucciso l'Italia, Francia, Svizzera. Sequestrava le sue vittime, le stuprava e poi le uccideva. Sempre con le medesime modalità. Sempre utilizzando un coltello blu. Che lui considerava una relivia. E proprio per questo motivo è diventato il famigerato killer da coltello blu.